quando vuoi dai il tuo attacco dai pronti prima prima seconda di cui posso andare in piedi e adesso massimo silenzio prima in piedi tira 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 seconda in piedi terza in piedi quarta in piedi prima seconda terza quarta prima terza terza seconda quarta prima terza terza quarta terza seconda terza quarta terza seconda prima quinta terza terza quarta terza 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 seconda seconda prima terza 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 quarta terza ora facciamo così, proviamo un ambrogi minore, più carico ma non bene, fino di più, va bene, quindi adesso chiamo la quinta e le altre, non le riprendiamo più, via, via che bisogna andare, io non puoi parlare, scusa, non puoi parlare, bravi, bravo, d'arrivo, do you have a hold of us, io, 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 io